Buongiorno ragazzi e buongiorno ragazze, pensierino del giorno per famiglia cristiana. Ecco avete rotto il cazzo, ok. Allora Salvini è il diavolo, mentre milioni di bambini che sono stati violentati quando erano molto giovani, da alcuni di voi appartenenti al clero, sono l'acqua santa, eh? Eh già, tutto vero, ok. Tutti ipocriti siete, un mondo di ipocriti, finto, eh? Ma tanto non succede niente, non cambia niente, perché voi siete parte molto molto importante dei burattinai di questo mondo finto. Faccio una cosa, ne penso un'altra, penso una cosa, ne faccio un'altra. Ciao, buona giornata!